La prevenzione è l'arma fondamentale per vincere il tumore, a dirlo, questa mattina nel corso della conferenza stampa della Lilt Ferrara è stata l'assessore alla sanità del comune di Ferrara, Chiara Sapigni. E questo è il messaggio, ha aggiunto l'assessore che viene dalla Lilt, ed è un messaggio che acquista tanto maggiore forza in quanto a darlo sono soggetti che hanno ruoli diversi ma un unico obiettivo, soggetti che in questo caso hanno deciso di coordinare le loro attività e di unire le loro forze. Questo genere di attività medica sta dando grandi risultati, la prevenzione tramite i 3 screening che si sta attuando nella nostra provincia sta avendo un buon successo e ogni anno molte persone vengono diagnosticate in una fase precoce e pertanto possono guarire. Sì, questo è fondamentale, effettivamente dagli ultimi dati noi possiamo dire che a Ferrara abbiamo una percentuale di sopravvivenza del tumore della mammella quando viene diagnosticato in una fase iniziale superiore al 90% a 10 anni e questo lo dobbiamo solo ad una cosa, cioè allo screening che ci porta le pazienti con una diagnosi precoce. C.S.O. Ferrara con l'ILT Expo Milano 2015, perché? Beh, perché abbiamo la stessa finalità, la LILT ovviamente essendo un'associazione contro i tumori deve convincere le persone di come ci si deve alimentare per preservare meglio la nostra salute e noi come missione, centro servizio di ortofrutticolo, abbiamo quella di incrementare i consumi di frutta e di verdura. Grazie a tutti.